Salve sono Marco, ho 35 anni e vengo da Bari. L'algoritmo si basa sulle nostre ricerche nei motori, nel web e sulle parole che i nostri dispositivi ascoltano, giusto? Quello che noi vediamo su Facebook Watch e su YouTube dipende dall'algoritmo? Vi ringrazio novamente. Sì, anche con Stricciano Notizia abbiamo dimostrato quanto oggi le applicazioni ci ascoltino, un po' dappertutto. E' una sorta di mercato, come il mercato del pesce, il mercato della frutta, dove c'è chi raccoglie audio e applicazioni magari più strane e le vende in questo mercato e chi dall'altra parte arriva e le compra. Magari non conosce neanche bene la provenienza. E quindi sì, purtroppo anche i video di YouTube sono influenzati da quello che diciamo. Per cui più che occhi aperti, orecchi aperti e anzi bocca chiusa, perché qui siamo pieni di dispositivi che ci ascoltano, mamma mia!